Dovremo prendere un terzino sinistro, qualcosa davanti come alternativa perché siamo corti e basta. Poi per il resto due tre pedine massimo e la rosa completo. Ancora abbiamo un mesetto per finire, diciamo, completare la rosa. Il campionato inizia il 2 settembre, quindi abbiamo parecchi giorni ancora per completarla. Però gran parte della squadra c'è, quindi sono contento che la società mi ha messo a disposizione quasi intero e organico in modo da poter lavorare da partire subito con loro. E questo devo ringraziare la società, il direttore. L'obiettivo è chiaramente la salvezza e mi ha chiesto se durante l'anno c'è possibilità di far giocare qualche giovane anche nel settore giovanile. E quindi questo è l'obiettivo, cercare di valorizzare qualche ragazzo del nostro settore giovanile e chiaramente priorità assoluta è mantenere la categoria.